Salve, le ultime novità politiche sono molto interessanti, non ci sono riusciti con Giulio Andreotti, ma adesso con i Berlusca sì, chissà che cosa succederà, voglio proprio ascoltare quello che dice Travaglio, poi gli risponderò, come ho sempre fatto, ma probabilmente il PD non cambi strategia e lo continuerà ad appoggiare al Berlusca, anche perché sarebbe come se un prete rinunciasse all'esistenza del diavolo, perderebbe il lavoro, il PD prende sostegno non solo dai suoi elettori con le iscrizioni e soprattutto con i voti, ma anche dal PDL con le tangenti e il nemico storico che giustifica la propria ideologia. Adesso rimarranno gli uni senza gli altri e forse la maggioranza futura sarà formata da M5S e l'incognita sarà vedere l'alternativa quale sarà, non credo che sarà la Lega o qualche forza di sinistra, ma non lo so, forse è lo stesso Monti o Tremonti. Beh, veramente devo fare un'analisi politica di quello che succede, è impressionante, ci rivedremo, ciao.